Passo la parola a una persona che ha vissuto in un contesto molto diverso, in un contesto come quello della Turchia che è esplosa da un punto di vista del suo protagonismo sanitario negli ultimi anni. La Turchia sicuramente prima del luglio dello scorso anno era diventata, penso in particolare all'Organizzazione Mondiale della Sanità a una grande protagonista sia anche il supporto alle realtà della società civile, a un paese con cui si poteva dialogare per produrre dei cambiamenti interessanti, un paese con cui si poteva magari interloquire anche per fare pressione sui paesi europei dove noi viviamo, quelli che conosciamo meglio, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, la Germania e l'Italia. Io sono particolarmente contenta di essere qui accanto a Zeynep Barol perché il suo nome è circolato in mail in lista del People Self Movement per diverso tempo e quindi le passo la parola per raccontare invece quelli che sono i programmi di privatizzazione della salute in Turchia e anche le vicende dei protagonisti, dei paladini, del diritto alla salute all'indomani del luglio 2015. Prego. Grazie. 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 per aver trovato il cambiamento di trasformazione di Turchia di Turchia. E ovviamente non è facile direttamente i dettagli di questo programma in 20 minuti, ma io farò il mio miglioramento e fare un presentazione per il Turchia People's Health Movement Turchia. Quando diciamo la privatizzazione della città, specialmente nel 1980, significa la commercializzazione del servizio di attenzione è più utile come possibile. Quando pensiamo alla polizia all'interno del mondo, possiamo vedere diversi attori, diversi tempi, come in USA, Nixon e in England, Turchia. Ma ci sono alcuni componenti di privatizzazione del periodo, come la scuola di scuola, la pagare, la scuola di attrazione di attrazione di attrazione per grandi società. come la scuola di attrazione di attrazione come la società, la società non c'è quella cosa, ci sono individuali d'un giovane e donne. e ci sono famiglie in questo mondo. Se ci siamo stati da partecipare per la società, come un'individuo problema, sarebbe meglio fare tutte queste istituzioni, la gestione di queste istituzioni a grandi privati compagni, sarebbe meglio per l'individuo. E questo crea un visio circolo, più individuali medico interventi, più hospitali, più trattamenti, più medici e più individualismi. Questo è il nuovo trend del mondo. E cosa succede in Turchia? Nel principio della Repubblica di Turchia, c'erano i servizi di prevenzione nel 1920, perché della limitazione delle risorse. E nel 1960, la legge del governo e con questa legge la legge del tutto, la legge del tutto, l'arrivo di autorità, la legge del governo. E le servizi di prevenzione e le servizi di prevenzione in questo periodo, l'arrivo di 1983-2003, l'arrivo di privatizzazione in questo periodo, e dopo, l'arrivo di trasformazione programma in questo periodo, l'arrivo di privatizzazione processi. in questo periodo, in questo periodo, l'arrivo di privatizzazione in questo periodo, in questo periodo, l'arrivo di trasformazione non trovare in questo periodo, l'arrivo di trasformazione non trovare anche i gasi, per cari, per fare per casa, per fare in rurale in questo periodo, e abbiamo un' caosini che riguarda il malario che evitare in questo processo per rurale e ci sono attivano privatizzazione creare l'arrivo di privatizzazione in questo periodo, con questo programma, ci sono tre raggi di questo programma, una è la privatizzazione del primary healthcare di private family doctors e l'altra è la financia del healthcare, basata su un'insurante sistema, che si chiamiamo universal health insurance e l'ultima è l'autonomia, ci si chiamiamo questo, ci chiamiamo la privatizzazione del pubblico. In il ministro del health report, vedete che ci sono 8 progetti di questo programma, come un'insurante health insurance, si chiamiamo tutti i nostri sottotitoli, si chiamiamo il primary healthcare servizi e la famiglia di medici, le sanità di sanità di sanità di administrativa e finanziaria autonomi, qualità e accreditazione per qualifiche e efficace le sanità di sanità, e l'instituzione di gestire, ecologico e le sanità di 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 sanità. il mondo del gruppo di salute e il caso di un'azienda, e il cottone di rafforzamento e il rafforzamento un pacco di servizi e il traslato di pubblico rafforzamento, organizzare i pubblici hospitali e otonomizzare più oltre e consolidare e traslato di responsabilità e e la scena di servizi e rafforzamento di pranzo di spesa Chi è il proprietario del programma di Health Transformation Programme? Se si chiede il Ministro di Health, dicono che abbiamo preparato questo programma per ottenere inspirazione da nostre esperienze, ma per il WHO è un programma che è supportato da World Bank. Il Ministro di Health Transformation Programme di Health Transformation Programme? Un istituzione sociale in 2006 e un istituzione sociale iniziativa 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 un istituzione che è supportato i servizi e solo basi iniziativa e Ministro di Labora e Sociale Securetia e hospitals sono trasferati al Ministro di Health in una volta iniziativa iniziativa il giorno dopo il giorno dopo questo è successo iniziativa iniziativa e la società securità iniziativa 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 di servizi di pubblica o privata iniziativa e iniziativa il giorno dopo il mondo il ministro di Health e l'administrativa struttura iniziativa 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 e dei ministro servizi delio Hitler L'unico pubblico hospitalizare in stituzione di Turchia è stato un'azienda di ministri e pubblico hospitali e gestione di CIOs. Questo è la mia ultima organizazione del ministro del Health. Ci sono diviati tutti i integriati l'area. Comunità in base di pubblicità centri sono aperti, e invece di esserci, i centri di famiglia di salute, è un tipo di attrazione privata, è un tipo di attrazione personale, non di comunità in base. e se vi guardate le riforme in termini sociali partenari come community, help, manpower e global capital per community assessment, non vedo i dettagli ma più 15% della popolazione è ora out of this universal coverage and most of them are unregistered people, people who are vulnerable actually unemployed people and as a result of this now, Turkey is the county that has emergency service admissions in a year more than its own population in a year almost 111 million admissions to emergency service occurred in Turkey and user fees increased in years from 5% to 17% the percentage of children receiving all basic vaccinations it was 80% in 2008 now in 2013 it's 74% and the change in financial structure of a public hospital have led to many changes in patient care hospitalization period has reduced to 3.9 days and non-term care services began to be transferred out of hospitals and many services in hospitals are bought externally from private companies now this, there you can see, the period has reduced and Turkey is the under of OECD countries and efficiency, they did all these reforms for more efficient health care services and now Turkey is the, let me show, yeah thankfully we are better than United States but under of course OECD countries but occupancy rate is now 64.8 I can't see very well but it should be like this so yeah and neoliberal health reforms have changed the financial structure of public hospitals and they general budget has gradually, gradually decreased and then depending on this change revolving fund has been a dominant financing tool in hospitals and a large part of the income is derived from the revolving fund and almost all of the expenditures are made from the revolving fund and this revolving fund actually depends on the performance and the criteria of performance are defined by the again World Bank and the health transformation program has not provided a significant improvement in community health indicators and today Turkey is far behind the developed countries in public health indicators such as life expectancy, infant mortality rate or unmet health care needs and what about health manpower assessment and the number of the per capita visits increased because of the secret policies of the government and outsourced employment is growing number of temporary workers increased in ten years ten times and today one out of every four people working in the Ministry of Health is working in our outsourcing companies and the violence about two years 23,000 cases have occurred and almost 8,000 of them were physical violence for global capital purchasing of services in public systems increasing demand monopolization and privatization these are the four cornerstones of profit maximization and as you can see outsourcing it's a trend in Turkey and there is a problem there is a problem but okay distribution of outsourced services in non-clinic non-clinic sector housekeeping automation and security and clinic sector MRICT and biochemistry laboratory services are the most common ones and private hospitals double up increased number of equipments of inpatient treatment institutions we can see incredible increasing especially for MRI as a result of this Turkey is the first country for MRI exams and more surgical operations to feed the revolving fund drug using double up in years as a result in the aftermath of this neoliberal health reform we have to answer this question who gains who loses and for AKP Development and Justice Party nowadays they blame the Gulenz community because of all these reforms the bad consequences of them they said that this is the fault of the Gulenz supporters which were the Minister of Health in the time and then now they try to change fix the system but it's impossible and to talk if we talk about the current situation in Turkey actually AKP got elected in November 2002 and they accelerated the neoliberal policies in health, education, agriculture, urbanization and in the last 7-8 years political Islam is raising an obscurantism felt in every aspect of life in 2015 in general election AKP lost the majority and after this in order to cancel the election the peace negotiations with Kurdish authorities have been cancelled and then war started again in Turkey and right to life violated in this process and due to indefinite curfews there was lack of water and food water shortage power cuts and civilian death in a year we reported 222 civilian deaths during the war and 1 million almost 1.6 million persons affected in Kurdish area in Turkey between August 2015 and March 2016 kids women and elderly people died this is how a patient was going for hemodialysis during this process and this is the entrance of a hospital a group of academicians in Turkey 1,128 academicians had declared a petition which is known peace petitions or we will not be part of this crime and they said that stop human rights violations as possible as soon and the result was witch hunt academics are targeted by the president and they stigmatized as terrorists and there was arrestings for of the members of this petition and nowadays they are accusing academics making terrorist propaganda just because of this petition and after this petition there was a coup patent in Turkey it gave power to the president of Turkey and then more than 15 months all the rights and freedoms are suspended in Turkey with 28 executive orders around 2,800 physicians more than 10,000 health workers and 96,000 public workers dismissed from their work and more than 30,000 public workers suspended as a result of this of course health care system affected and what happened to academics for peace today 460 of them dismissed in a way with different ways also I am one of them we need solidarity for Turkey showing reaction against these gross human rights violations is important and for academics for peace the people who were dismissed by the government cannot travel usually there are some expectations but usually cannot travel so that we need distance academic programs for junior academics for peace and then distance conferences which will be given by senior academics for peace members and collaborative international research studies in which academics for peace included as partners or we cannot reach the databases because we were dismissed we need to reach to international databases these are just some of the solidarities I want to mention about this so thank you thank you for your attention thank you for your attention thank you very much